La copertura del Computex 2018 è stata resa possibile grazie a Intel, Republic of Gamer e Corsair Per maggiori informazioni trovate tutti i link in descrizione Primo video di copertura del Computex 2018 e lo iniziamo alla grande È appena finita la conferenza di Asus dove è stato presentato un concept Questo non è effettivamente un prodotto che potremo vedere nelle nostre mani nei prossimi giorni Ma da quanto ci è stato detto potremo vederlo sugli scaffali nel corso dell'anno successivo Quindi parliamo di 2019 Si tratta di Project Precog Un concept decisamente interessante Sviluppato sulla forma di un notebook con due display al posto della tastiera e trackpad Ovviamente il display inferiore può essere utilizzato come tastiera, trackpad Ma la sua vera potenzialità si va a scoprire quando lo si utilizza come vero e proprio schermo Da quello che è stato detto verranno sviluppate sempre nuove applicazioni Che andranno a sfruttare questo nuovo layout In questo caso sono state fatte vedere delle demo nella quale è possibile giocare Ad esempio ognuno utilizza uno schermo Oppure effettuare due operazioni diverse utilizzandoli come due schermi separati E teoricamente dovrebbe andare in automatico ad adattarsi in modo intelligente Mostrando la tastiera, il trackpad eccetera In base a ciò che stiamo utilizzando all'interno del nostro computer Nel caso noi dovessimo collegare un mouse ad esempio Il trackpad scomparirebbe dallo schermo inferiore Ovviamente può essere impostato se mantenerlo o rimuoverlo E in quel caso la tastiera andrà a spostarsi in base a dove posizioneremo le mani Ovviamente tutto molto interessante Purtroppo non possiamo toccarlo con mano Per effettivamente vedere questo concept incredibile Ma spero vivamente di vederlo in commercio l'anno prossimo Per capire effettivamente come si potrà sviluppare E se effettivamente questo trend potrà essere una cosa vincente Anche per questo video del Computex 2018 è tutto Lasciate un like se il video vi è piaciuto In descrizione trovate tutte le informazioni possibili per questo prodotto E ovviamente i link ai miei social Quindi da Blink è tutto E ci vediamo con il prossimo video Ciao ciao